Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti invece in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla 1 direttissima sempre per traffico intenso code a tratti tra Aglio e Badia ancora in direzione Bologna. Sempre sulla 1 a causa di lavori si segnala che in direzione Bologna fino alle 18 di oggi rimarranno chiusi i tratti tra il Bivio con la variante di Valico e Aglio e Traglio e Rioveggio. Passiamo sulla FIPI lì dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda in direzione mare tra Firenze e Firenze Scandicci. Chiudiamo con i treni causa danni provocati dal maltempo sulla linea faentina e sospesa la circolazione tra Marradi e Faenza fino al 28 settembre. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!